Ciao, io sono la mamma del bambino protagonista della serie, di Tano, quel bellissimo bambino biondo, talentosissimo. Nella serie mi occupo soprattutto della lotta contro il pizzo, nel senso che quando questo ispettore arriva a Montorsi e comincia a sostenere questa scuola, a indagare, anche le famiglie intorno si sentono sostenute in qualche modo rispetto a questa lotta verso questa piaga che affligge il meridione da sempre. È stato bello, è stato interessante, è stato interessante fare un lavoro sul dialetto barese che non è il mio. È stato bellissimo stare in mezzo a questi ragazzi che sono dei musicisti e che quindi sono animati da una passione, da una dedizione, da un'ossessione che spesso noi attori dimentichiamo, nonostante abbiamo a che fare con il nostro strumento. Spero veramente di farne un'altra, spererei di farne una seconda serie di questa perché è proprio stata una bella esperienza. Ciao a tutti gli spettatori di Rai.tv, vi aspettiamo su Rai1 con tutta la musica del cuore.